Il mantra per uscire dall'incubo pandemia è vaccinare e all'uslotto si continua a vaccinare strada nonostante i limiti creati dalla carenza di vaccini, le sospensioni di alcuni per le reazioni avverse e il conseguente riesame da parte delle agenzie sui vaccini. Due le corti d'età che si vogliono chiudere entro il 2 maggio. Siamo messi bene con gli over 80 perché la copertura supera il 90% e stiamo completando la seconda dose. Mediamente bene con gli over 70 vorremmo una copertura maggiore. Circa il 62% su oltre 47.000 degli over 70 ha già ricevuto la prima dose di vaccino ma all'appello ne mancano ancora almeno 16.000. Abbiamo aperto ulteriori spazi vaccinali proprio in questi giorni in dipendenza dell'arrivo delle varie tipologie di vaccino per cui ci sono posti possono prenotarsi tramite il portale regionale gli over 70. Lanciamo un appello all'iscrizione perché vorremmo completare il più possibile la prima dose agli over 70 entro il 2 maggio. Chiudere la corte degli over 70 con la prima dose consentirà alla macchina vaccinale di concentrarsi con la numerosa classe degli over 60. Intanto in casa è arrivato anche lo sdoganato con il via libera di Emma e Aifa del vaccino della Johnson & Johnson, un primo quantitativo di mille dosi e ancora poche per il fabbisogno. C'è arrivato un quantitativo molto molto ridotto di dosi in questa fase iniziale per cui stiamo valutando in quale setting usarlo e anche valutando anche le circolari ministeriali sul suo impiego.